Quasi 400, 395 per la precisione i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo di età compresa tra i due mesi e i 93 anni. Responso di 3.067 test analizzati, pari dunque al 12,87 del totale dei tamponi analizzati. Dei nuovi casi 204 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Un ulteriore e sostanziale aumento dunque che fa salire complessivamente a 13.505 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Il totale risulta inferiore di 4 unità in quanto sono stati eliminati altrettanti casi risultati duplicati o già in carico ad altra regione. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 49, di cui 22 in provincia dell'Aquila, 9 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Inoltre si registrano anche 7 nuove vittime e questo balzo fa salire il computo complessivo a 584, di età compresa tra i 63 e i 92 anni. 3 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 4.340 tra dimessi e guariti, più 67 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 8.581 più 317 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 308.505 test. 468 pazienti, più 10 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 42 più 6 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 8.071 più 301 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi 3.939 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 143, 2.582 in provincia di Chieti, più 86, 3.135 in provincia di Pescara, più 59, 3.564 in provincia di Teramo, più 101, 95 fuori regione, più 12 e 190 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.